Good morning guys, oggi è lunedì 21 marzo e sono le 9 e 16, sto girando questo video che farò uscire questa sera proprio lunedì un video di sfogo, un video di sfogo dopo il bellissimo colpo di genio caritatevole dello Stato che decide di abbassarci da domani martedì 22 marzo il prezzo della benzina di 25 centesimi, quindi dico grazie Stato ma dico anche mi pigli per il culo? Ti senti preso per il culo? Riccardo ma stai esagerando, ma che cosa dici? Lo Stato sta facendo un intervento di 25 centesimi per un mese per venire incontro a noi lavoratori, a noi appassionati delle moto, a noi che chiediamo di poter avere una benzina a un prezzo ragionevole per spostarci per i nostri motivi giornalieri, no? Ok? No, è una presa per il culo ragazzi, uno schiaffo in faccia diretto sapevamo che l'avremmo preso, l'abbiamo preso e non possiamo farci niente, perché di nuovo l'Italia fa una pezza per tappare un problema, per mettere un tampone, non è un qualcosa di definitivo l'Italia ladrona sta continuando di nuovo a perpetrare un comportamento che porta avanti da una vita mi togli questi 25 centesimi? Ok, grazie, per un mese almeno potrò respirare respirare, come se una benzina che costa 1,85 euro, 1,90 euro costasse poco e probabilmente, non penso si possa fare, però mi informerò, qualora potessi farlo mi farò un po' di scorta di benzina, me la terrò qui in garage, ma non credo si possa fare Perché paghiamo ancora delle accise che esistono da una vita, da troppo tempo e che non dovrebbero più esistere? Vedi le accise sulla guerra in Abissina, vedi le accise per il rinnovo dei contratto dei ferro tranvieri 7 centesimi al litro, perché queste accise che vengono messe vengono lasciate così, in maniera insordina perpetrate nel tempo, costantemente, come se nulla fosse e mi sento preso per il culo ragazzi ma mi sento preso per il culo, cioè io oggi vado a lavorare per guadagnarmi uno stipendio per pagare la benzina per andare a lavorare, il concetto è questo, un po' estremizzato ieri ho fatto un pieno alla mia macchina e ho speso, in realtà 90 euro non era nemmeno vuoto il serbatoio c'era ancora un quarto di serbatoio di benzina a disposizione, 90 euro dopo tutto il periodo di schifoso che si è passato, di merda che si è passato perché non passiamo a qualcosa di concreto, a qualcosa di reale che veramente ci venga incontro da oggi in avanti, senza un inizio, con una scadenza per quale motivo dobbiamo sentirci costantemente presi in giro ok, la situazione geopolitica non è delle ottimali, situazioni ottimali c'è un casino quasi mondiale che ha sull'orlo del tracollo ma perché io che ho una famiglia, vivo nel mio piccolo devo costantemente sentirmi qualcosa nel mio di dietro che mi spinge e mi fa dire, oh cazzo c'è un'altra cosa che me lo stanno infilando, per quale motivo? perché non posso vivere serenamente? perché? e devo sentirmi dire abbiamo fatto questo intervento per voi, quando in realtà poi è una carezzina ma nel frattempo qualcos'altro me lo state mettendo... no? scusate lo sfogo ragazzi ma sono veramente esasperato, sono arrivato alla frutta non ne posso più perché ogni giorno arriva una notizia nefasta aumentano i costi, aumenta quello, aumenta quell'altro, aumenta quell'altro le nostre passioni come anche la nostra vita giornaliera, familiare, economica appunto del nucleo familiare è sempre messa in crisi è sempre messa in crisi ora io sono qua a parlare da motovlogger e quindi mi rendo conto che sto rischiando seriamente di dover lasciare la mia noise in garage più del necessario continuo così, dovrò rinunciare perché pagare un pieno alla macchina, alla moto diventerà un lusso, diventerà un lusso probabilmente, non lo so, ma diventerà un lusso e quindi il girare sarà quella cosa che ti concederai una volta ogni tanto perché ti prenderà male a fare un pieno di benzina perché dovrai decidere faccio pieno la benzina o faccio la spesa quando fino a mesi fa, quando la benzina costava molto di meno e non costava poco, poi eravamo più liberi è un mondo che sta diventando veramente schifoso e l'Italia continua ad essere un'Italia ladrona, un'Italia che ti piglia in giro che ti dà una carezza, dannoti l'idea che ti venga incontro scusate lo sfogo, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di questo intervento di 25 centesimi che faranno da domani per un mese speriamo ragazzi che nel giro di poco tempo tutto quanto si possa risolvere si possa un pochino indirizzare verso una strada più risolutiva un passettino alla volta, non dico tutto subito però un po' alla volta, cominciamo a ragionarci è stato? Cominciamo cominciamo a ragionare per i cittadini per i cittadini, cosa che secondo me non fate da troppo tempo pensate per i cittadini ciao belli